La manifestazione di protesta della comunità tunisina in Italia con la presenza di magrebini provenienti da diverse regioni del paese, preannunciata per domani nel centro di Ravenna, è stata annullata. La decisione è stata annunciata oggi e la comunicazione è stata accolta dal sindaco Fabrizio Matteucci come una scelta saggia di legalità. Il primo cittadino ha infatti ringraziato le autorità e i leader politici che in questi giorni hanno con intelligenza e riservatezza aiutato a rasserenare la situazione in un frangente così delicato per la città. Nel frattempo ieri è stata effettuata l'autopsia sul cadavere di Hamdi Benassane, il 27enne tunisino deceduto nella sparatoria con i carabinieri durante un inseguimento innescato dopo che l'auto con il magrebino a bordo aveva forzato un posto di blocco a Marina di Ravenna. Ed ora il medico legale avrà a disposizione 60 giorni per depositarre l'analisi completa. Sono comunque già emesse alcune informazioni che fanno ipotizzare che il decesso del tunisino possa essere stato causato da un proiettile che lo avrebbe colpito di rimbalzo. L'uomo sarebbe stato ucciso da una pallotto all'entrata dal fianco sinistro e conficcatasi nel polmone dopo aver attraversato il rene. Una traiettoria dal basso verso l'alto che potrebbe essere la risultante di una deviazione o anche compatibile con una posizione di mira presa da terra. Ricordiamo che la sparatoria sarebbe iniziata quando i tunisini, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbero tirato fuori dall'auto una scacciacani dopo aver provato ad investire uno dei due militari, priva del tappino rosso e dunque impossibile da distinguere rispetto ad una pistola vera, soprattutto nelle condizioni di oscurità in cui si sono svolti i fatti.